E' stato presentato il ricco calendario di appuntamenti che animeranno Castellana Grotte nel Barese fino al 23 gennaio prossimo. Si tratta di 50 giorni ricchi di spettacoli iniziati con tre dedicate alle fontane danzanti, show di acqua, luci e musica. Quello delle fontane resta l'unico appuntamento di Largo Porta Grande in un programma che poi coinvolgerà anche Piazza Garibaldi con la casetta di Babbo Natale, le postazioni enogastronomiche, ancora mercatini e tanti concerti. A questi si aggiunge anche Piazza Nicola e Costa, Largo San Leone Magno e poi tutto il centro storico. A questo calendario si aggiunge anche un ricco programma di appuntamenti prettamente natalizi, sportivi e culturali con alcune sorprese che caratterizzeranno ancora di più l'intero periodo e i valori compresi in piazza d'inverno. Gli eventi del centro cittadino sono gratuiti e organizzati dal comune di Castellana Grotte in collaborazione con Grotte di Castellana.